salve ragazzi bentrovati allora non spaventatevi in questo video ho un aspetto un po' spettrale ma ha un senso perché sono qui per mostrarvi alcune cosine infatti quest'oggi mi è arrivato un pacco il pacco di una collaborazione con un sito che si chiama Nijoli che mi ha richiesto appunto di collaborare ovvero di scegliere alcuni prodotti dal loro sito credo si tratti di un'azienda cinese perlomeno vi posso dire che il pacco arriva dalla Malesia esattamente avevo un budget di 10 euro e ho scelto 4 cosine una però non mi è arrivata non so per quale motivo quindi vi mostrerò gli altri 3 oggetti il pacco in questione è un pacchetto molto piccolo che addirittura mi è stato invocato nella cassetta postale quindi per fortuna è stato possibile fare in questo modo perché stamattina non ero in casa quando è venuto il postino il pacco è questo vedete questa è la mia mano per farvi rendere conto delle dimensioni è di quelle bustine che all'interno hanno quelle bollicine in modo tale da evitare danni agli oggetti come vi dicevo il pacco arriva dalla Malesia è stato spedito il 15 febbraio quindi ci mette circa un mese e mezzo insomma un'attesa piuttosto lunga però ma non avevo fretta quindi e vi vado a mostrare subito i tre oggetti che mi sono arrivati il primo appunto il primo appunto è una tinta labbra e vi faccio vedere il packaging qui c'è scritto long lasting lip gloss e la marca è magic hello cosmetics pro parliamo della tinta numero 29 e ve la vado a mostrare allora sono anzitutto non so quanti grammi di prodotto avrei voluto dirvelo ma non riesco a visualizzarlo a 12 mesi di scadenza si presenta in questo modo quindi nella sua boccettina in plastica con un tappo nero e chiaramente è la tinta che indosso in questo momento vi faccio vedere un attimo il pennellino è fatto così tipo lip gloss vi posso dire che la stesura è alquanto complicata perché è veramente tanto scrivente già alla prima passata si mattifica ed è diventa un come vedete un colore il 29 un colore molto scuro io credevo fosse un po più rossastro invece diventa proprio un colore giungolato scuro la cosa che non mi piace di questi colori così scuri è che poi si crea questo stacco con l'interno delle labbra però vedremo se riuscirò a utilizzarlo sicuramente l'inverno prossimo perché ormai queste colorazioni mi sembrano un po fuori stagione è questo gloss che viene definito gloss à l'oeuvre de matte liquid durable utile cosmetic numero 29 viene 2,99 euro sul loro sito ok piccola pausa mi sono dimenticata di dirvi la cosa importante chiaramente questo sito vi da la possibilità di darvi un piccolo codice sconto che vi metto qui in sovraimpressione e vi lascio giù nell'info box e vi ricordo che nell'info box potrete trovare anche i link a ciascuno dei prodotti che vi sto mostrando in questo video e il codice sconto credo sia del 10% però ripeto i costi sono molto contenuti quindi anche un 10% diventa significativo rispetto al totale del prezzo allora peschiamo il secondo prodottino voglio lasciare il best seller per la fine ok ho preso una collanina che è arrivata in questa bustina piccina piccina allora vediamo di aprirla sarà un'impresa perché non riesco ok allora ho preso questa catenina che è di quelle che si usano ultimamente allora c'è una catenina argentata e poi questo ciondolino tutto sfaggettato io l'ho preso nella variante azzurro viola in realtà è un bianco con dei forti riflessi lilla ed è molto carina l'ho solo voluta prendere come portafortuna mi piaceva molto ho intenzione di indossarla più o meno sempre molto molto carina e questa collana che è definita collier pierlosange violet bleu avec chen ci sono 8 colori a disposizione c'era anche turchese nera bianca rosa color quarzo credo che il quarzo sia rosa rosa era molto bella però insomma non si sarebbe sposata molto con i colori che utilizzo io e quindi l'ho presa in questo bianco lilla questa catenina viene 3,26€ ed è la cosa più costosa insomma che ho preso ok e infine è rimasto l'ultimo pezzo ho preso un quadernino è un quadernino molto piccolo diciamo più piccolo della mia mano e c'è scritto dream and explore in questa bellissima questa bellissima fantasia da galassia insomma questa fantasia galattica molto carina sfumata dal verde blu fino all'arancio il rosso e mi è piaciuto molto come blog notes per scrivermi magari qualcosa inerente a youtube o qualche appunto di lavoro qualche impegno è fatta come una gentina per cui vedete le pagine sono fatte in questo modo e qui all'angolo c'è scritto date in modo da annotare la data e i relativi impegni note, promemorie e quant'altro è molto molto carina e c'erano diverse fantasie questo è definito come un carnet a motifs de sieletuale motifs alléatoire ed è costato soltanto 1 euro e 86 veramente una cosa sfiziosa che porterò sempre in borsa e basta ragazzi avevo scelto anche un set di joker sarebbero stati i miei primi joker ma non mi è arrivato mi spiace non so forse non era indisponibilità insomma bene questo era quindi un brevissimo video per farvi conoscere questa azienda darvi la possibilità di acquistare qualcosa con un piccolo sconto e e farvi partecipi di questa collaborazione che mi hanno proposto insomma io sono sempre felice di collaborare con le aziende perché essere bugiardi no? qual sia la possibilità di provare qualcosa gratuitamente fa sempre tanto piacere e vi saluto ci vediamo molto presto o in programma dei roleplay quindi stay tuned a presto ciao